Allora, siamo appena entrati qui all'interno di Customs con il nostro K-104 Ma questa è un'arma, è un'arma spettacolare, io ve lo dico È un'arma che veramente vale la pena, vale la pena Perciò, auguratemi buona fortuna E andiamo a sfondare tutto lo sfondabile Bobo! Ma cadere nei dormitori, stiamo giocando i PS Quindi ricordiamo che i PS non è che siano dei colpi tanto tanto buoni Però facciamo del nostro meglio Ciao Cobra, hola che tal? Come sta Scobra? Bienvenido, bentornato qui da noi A noi o a noi in game perché le dimensioni del tuo membro sono sproporzionate Chiaramente si, Bobo, non è chiaro, chiaro Abbiamo un membro talmente grosso Del cartello, è chiaro Talmente grosso che La PSG ha deciso di dare questo bellissimo nome in game, Viola Detto anche il nome dell'emissario Nome da emissario Allora, Bobonos Mi raccomando, copritemi le spalle Mentre andiamo verso i dormitori Proprio nel momento in cui adesso ci buttiamo nei dormitori E strituriamo tutti quei 60... Eccoli, 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 eccoli Ok Bobo, 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 Bobo Pablo Aiuta Pablo, eh Ok Oh fuck Non è morto Non è morto per qualche strana ragione Non so, i miei colpi andavano un po' a scampire, eh Questa è la verità Sono andati un po' tutti quanti a minzica, però Ho messo sul 6 questo, ecco perché Perché non mi cura, eh Ma è un pomparo maledetto È un pomparo maledetto Ecco di curarmi di nuovo al volo e... E ci risono Ha aperto una porta Credo che sia sotto, però, eh No, però non ho sentito le scale di metallo Quindi, boh È rientrato da sotto da qualche parte Ma dove esattamente non lo so Ok, però La cosa, ecco Questa è una cosa che devono fixare assolutamente Cioè, non è possibile che mi continui a curare Le braccia Le gambe Il... Il culo, eccetera Ma lo stomaco e il trocio Che sono le cose più importanti Non le cura Bah E loro diranno Eh, ma ti cura prima l'altro che è più danneggiato Sì, ma non è così che funziona La maledizione Ok Donde sta il gringo? È uno scav quello Però da qualche parte deve essere quello col pompa, eh Non è sparito nel nulla È impossibile Non può essere Oh, oh, ma che vuoto Ma porca miseria Oh 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 Ma che micchia Ah What the fuck Che cazzo Tra lo scav e il PMC che mi dira dall'altra parte della mappa Veramente non so chi più dare retta Lo scav che tanka come degli animali Ma che è? Cioè Non lo creo Non lo creo Ok Fermi, fermi, fermi Là c'è una testa a zero Ma adesso che Poi chi è che mi sparava da fuori Maffammare detto Devo spiegarmi a vedere se ha qualche cura Perché Ah, come Ah, è morto dagli scav Mi sa Allora, spero Porta chi l'ha chiuso però Non io E comunque penso che sia lui Sì, sì, è rientrato È proprio lui Sì, sì, con l'uscia anche Lui, lui Allora, credo che abbia chiuso la porta e non sia entrato Però dove sia finito non lo so Quindi, boh La porta qui al terro tutta era aperta Ho sbaglio Guarda il bagno qui Eh Oh, l'ho chiuso dallo scav Quindi, vero, sì, da dinghi, dinghi, dinghi E ha fatto fuori un sacco di gente apparentemente Vabbè L'importante è che abbia una cura Poi per il resto non mi interessa Il flash Questo era pure un flashettaro Guarda che brutto Madre di Dios Oh, meno male, meno male, meno male Ok, risolto il problema Listo Il problema è sta listo Bien Muy bien Cioè, voglio vedere A fine ride Sono curioso di vedere Ma quanti minchia di danno gli avrò fatto a quel PMC Io non lo so perché Cioè, per me almeno Io da quello che ho visto prima Mentre gli sparavo Penso almeno, almeno Un 10 hit count sono entrati È sicuro I PS sono il problema, è chiaro Però non ho altri colpi da giocare Che siano meglio, quindi Che fine ha fatto quel tizio lì? Il gringo non lo sapremo mai, eh Desaparecito Vabbè Niente, siccome siamo sfondati come poche cose Vediamo un attimo se c'è la macchina Magari E il coce sta What the fuck? Oh A gringo Ma come ti permetti? Maledetto Ma guarda dove si era messo Ma che ti stai Ma stiamo scherzando Ma sei un pazzoide criminale Ma ti dovresti vergognarti Porca la vicina Se la vergoglia dell'umanità Ma porca miseria Ok Il dubbio formato è proprio Windows 11 Speriamo che così si risolva Raptor Veramente Buonasera Paolo Hola Paolo Come stas Paolo? Ben tornato Ma porca miseria Jeremy Ma che micchia fai? Mannaggia Ma guarda te è assurdo Assurdo Veramente assurdo Non lo posso creare Non lo posso creare Veramente Non lo posso creare Va Io non lo so Io non lo so Non lo posso creare Veramente Ma che micchia fai? Oh Ma che micchia? Ma che micchia? Magali subito Sbrigati Porca miseria Ma che bicchia succede What the fuck is happening Ok Que bicchia succede What is going on What 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 Que bicchia Malaveton 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 Esco dalle fottute pareti Malaveton 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 Maledetti Gringo smattavus Dammi qui Il mio maledetto zaino Lasciato qui, incustodito Ma sapevo che c'era Pablo lì A tenere A tenere Diciamo il nostro zaino da parte Porca la miseria, maledetti Ho finito Tutti i caricatori mi sono utilizzato Ancora Un altro scav Anche gli scav escono delle fottute pareti Comunque, però loro veramente li fabbricano Qui, li fabbricano dentro i dormitori Non capisco Wow, pazzangato Wow Guarda come stava rubando l'arma, eh Maledetto Lo so che volevi rubarti l'arma dal mio PMC Ma è mio, mine My PMC Ah Oh Eh ragazzi, questo Questo era del cartello rivale Ecco perché Maledetto Che non sei altro Io lo sapevo È del cartello rivale Maledetto Sapevo che c'era qualcosa sotto Qualcuno deve aver fatto la spia Che eravamo qui Eh Chi è Abbiamo un ratto tra noi E non è il ratto de machia Abbiamo un ratto qui in mezzo Secondo me, eh Secondo me abbiamo un ratto qui in mezzo Bene, 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 bene Prendiamo tutto questo Li svuotiamo Ancora? No, cioè Basta, adesso basta, eh Ora veramente è master Che mi sono stufato Cioè ho sventolato PMC ovunque Adesso basta, dai PMC, scav Tutto ovunque Boh Un altro livello 42 C'è un altro Guardi I cheat Oh I cheat spalmabili dei professionisti Wow Wow, wow, wow Beh, questo è tanta roba, eh No Origawo lo dico io Origawo Origawo Ce lo faccio entrare questo qui Mettiamo questo, dai Sì, sì, sì Guadagniamo un po' di spazi Quindi, buono Ha fatto anche un'altra kill lui Quindi è ancora meglio Questo ce lo rubiamo Vai Uh, 40 M80 Beh, grazie Molto, molto gentile, caro Una gentilezza estrema Veramente non dovevi Perfetto In realtà si dovevi Ti ho ucciso, quindi dovevi Come? Holy shit Ok, fermi, fermi, fermi Prima cosa buttiamo qui lo zaino Paghiamo qui il Il fattorino qui Sto Vediamo un attimo che c'è questo scav pure Eh, niente di che Niente di che Niente di che Va bene, va bene Basta, 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 basta Potrei prendere la torcia Blah, blah, blah Non l'importo, non l'importa Ok Dios mio Pablo Has visto che minchia è successo Pablo è sempre qui con noi, eh Ci supporta sempre Lo zaino, sì, 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 sì Lo prendo, lo prendo, lo prendo Lo prendo, lo prendo, lo prendo Eccolo Ya lo tenemos, ya lo tenemos Ok Vamos Pablo Pablo guida tu Andiamo Andiamo Olé G G Vamonos Porca la miseria Maledizione Dios mio Ma che minchia è successo Questo ride Porca la miseria Vamonos Vamonos Taglie così Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia 6.834 di exp Quattro PMC kill Più quello che Vabbè Morto dallo scavo Ma gli avevo già fatto Viliardi di Di hit count Vediamo quanti hit count ho Aspetta Fermi, fermi, fermi 35 hit count 1.196 Danni Comparati Dal Dal Dall'armatura 404 Danni assorbiti No 404 Assorbiti 404 Danni inflitti 1.196 Porca la miseria Popolos Nice 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 Oh my god Wow Muy 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 Bien Direi Muy bien Togliamo tutto Togliamo tutto Togliamo questo Togliamo questo Togliamo questo Guardate quanto loot Abbiamo fatto questo ride Porca la miseria Porca la miseria Loot in quantità industriale Po Come No 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 Grazie a tutti.